Zena Trans è un progetto, oltre che un gruppo di lavoro e uno spazio, che si propone di essere un punto di accoglienza, di sostegno e di protezione per tutte le persone transgender e gender non conforming, sia binarie che non binarie. Un punto di ascolto tra le domande, gli interrogativi, i bisogni delle loro famiglie e dei loro partner. L'obiettivo fondamentale è quello di coltivare un atteggiamento antidiscriminatorio, antinormativo di genere e inclusivo. Siamo quattro persone per ora, due donne transgender, che faranno consulenza individuale di orientamento e condurranno un gruppo di autoaiuto. E poi sono anche due persone CIS, un'avvocata, psicologo e psicoterapeuta, che faranno un orientamento psicologico e legale per i percorsi di transizione. Altro elemento è quello della divulgazione scientifica, pensiamo che sia molto importante che sia persone CIS che persone trans e anche le persone all'interno della comunità LGBTQ abbiano informazioni sulle persone trans pertinenti, adeguate e realistiche. La conoscenza abbatte la discriminazione e quello che dobbiamo fare è aumentare la conoscenza e far sì che attraverso le nostre competenze le persone possano cambiare lo sguardo sul genere e sull'orientamento sessuale.